Piazza Garibaldi a Cantù, il trenino che fa i piedi al centro, con tutti i bambini che salutano, vedete? C'è anche il Magnanti Natale, con Babbo Natale, consegnano a lui la letterina a tutti i bimbi, ovviamente c'è anche la pista su ghiaccio, tantissima gente qua in Piazza Cantù. Come potete vedere, sono tanti gli eventi natalizi, anche qua a Cantù, più tardi, verso le 17, ci saranno anche gli zampognari. E domani, sempre qua in Piazza Garibaldi, ci sarà il tradizionale lancio dei palloncini con le letterine per Babbo Natale. Sentite il suono delle sirene dei Magnan. E' tutto per questo sabato natalizio da Cantù. Un saluto a tutti da Mario Camagli.